e ben ragazzi qui è dead gamer soprannominati anche zombie oggi siamo nel primo video del canale oggi siamo qui con royal gamer bella raga iscrivetevi al suo canale il mio canale che è bellissimo veramente bellissimo per andare al suo canale dovete scrivere addio 2016 venuto 2017 però qui sono dei figiata spinner questo è un questo è un come si dice questo è un è un è una lista diciamo easter egg un easter egg del prossimo video che faremo la gara di figiata spinner mi sa allora sul canale non so ancora che bene quello che dobbiamo portare però sarò divertente cercherò di essere più divertente possibile con voi io spero forse metterò anche qualche effetto speciale durante questo video però vabbè spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace fate diventare il tasto mi piace bello blu io a royal vi salutiamo bella ragazzi da royal